Sono Giuseppe Cocco, viaggiatore del Grand Tour e sto viaggiando in Italia in compagnia del viaggio autore calabrese Corrado Alvaro e del suo libro Guida itinerario italiano, nel quale egli racconta il suo viaggio lungo la penisola realizzato nel 1933. I violini di Cremona. Fino a tutto il Cinquecento, nei quadri e nelle pale d'altare, il violino lo suonano gli angeli. Lo suonano ai piedi della Madonna in gloria e pare di udirne il gracile timbro. Non è più il suono che i greci paragonarono dei loro strumenti a corda al canto delle cicale e che era uno stridio, un ronzio, poiché gli antichi si contentavano di tali rumori che erano poco più su delle voci della natura. Come se ne accontentavano i primitivi. Basta vedere gli strani liuti d'Africa, composti di gusci di frutta e di animali e di crani d'uomini. Era un frinire, tutt'al più un canterello come uno che mugoli a bocca chiusa. Fin qui la musica non ha lo stesso senso che per noi moderni. Un po' più armonico era il suolo del liuto, prima dell'avvento dei maestri cremonesi, di amati, di guarnieri del Gesù, di stradi vari, e doveva essere un semplice linguaggio. Sempre nei quadri del Cinquecento vecchi profeti brandiscono violoncelli per cantare le lodi del Signore. Ma lo strumento che a un tratto diviene parte dell'uomo ha una voce più umana e sconvolge la musica fino a renderla quell'arte che Tolstoi trovò diabolica e pensò di proscrivere, che induce il cuore a compiacersi delle sue passioni, che crea tutta un'umanità di patiti della melodia, che insomma introduce anche nella musica concetti morali come in tutte le altre arti, capace com'è di purificare ed esaltare l'uomo o di diventargli complice e mezzana lasciva. Questo strumento è stato ricreato nel Seicento a Cremona. Senza di questo non si sarebbe avuta, da Monteverdi in poi, quella schiera di musicisti da concerto che, da variazione a variazione, da sviluppo a sviluppo, in un lavoro infinitamente ostinato su un tema di poche note, ci fanno ascendere con loro quell'atmosfera rarefatta della grande altitudine e solitudine in cui si abbraccia l'inconoscibile e l'inesprimibile. Il mistero stesso del ritmo e dell'armonia del mondo, conquistato attraverso una pazienza e una tecnica che alla fine divengono la scala celeste verso l'ispirazione. Alla nascita di questo strumento c'è fatalmente qualcosa di stregonesco che si perpetua per due secoli, come accade di tutte le scoperte che sorpassano i limiti dell'uomo. Puntato al sommo del petto, tra il petto e il esso ha la forma del torso umano, diviene tutt'uno con l'uomo. La sua voce è umana, come talvolta gli uomini vorrebbero cantare o implorare o gridare senza riuscire a trovare le parole. La grande riforma musicale consiste in questo, nella trasformazione dello strumento a corda in strumento d'abbraccio, cioè in qualche cosa che diviene parte dell'uomo e già nella sua consistenza è il mistero. Un tecnico moderno di mia conoscenza che perse tutta la sua vita a ricercare le lavorazioni degli antichi e che chiamavano perciò comunemente il mago, perché noi moderni attribuiamo ancora alcunché di magia ai procedimenti degli antichi, durò tutta la sua vita a rinvenire, tra l'altro, la ricetta della sonorità mai più raggiunta dai violini dell'amati, dello Stradivari, del Guarnieri. Egli credette che i maestri cremonesi trattassero il legno con l'ambra sciogliendola con una loro ricetta che poi andò perduta. Non si sa dove il mago di mia conoscenza fosse arrivato con le sue ricerche. Morì portandosi anche egli il suo segreto, alla maniera antica. Così accadde di Stradivari, del quale si sa che ebbe successivamente due mogli, la seconda a 50 anni e in tutto 11 figli. Guadagnò un milione di lire, siamo alla fine del seicento, fornendo strumenti musicali ai grandi e alle corti del suo tempo. Ma visse oscuro, indifferente ai suoi concittadini per qualche stranezza del carattere, o chissà per quale motivo più reale. Destino dei grandi uomini scostare con la loro presenza quanto la loro opera invita a conoscerli esprimendo una parte di loro, e la migliore, che essi confidano soltanto all'arte. Di Stradivari rimane la testimonianza che allogò i suoi figli molto bene e di come amministrò abilmente il suo denaro. Niente altro. Sì, gli inviati dei potenti d'Europa aspettavano più mesi a Cremona che il maestro consegnasse gli strumenti richiesti. Egli si era poi fatto una tomba in San Domenico, a Cremona, poi demolita con la demolizione della chiesa del 1868. Davanti alla tomba scoperchiata, un ignoto venuto da Milano afferra un teschio e pronunziando il nome di Stradivari se lo porta via. Di Stradivari non rimane neppure un ritratto. C'è un enigma nella vita di Stradivari, ma non più di quanti ve ne nacquero fino all'Ottocento, intorno ad altri che praticarono il magico strumento. Guarnieri del Gesù, altro cremonese allievo di Stradivari, lavorò parte della sua vita in prigione dove era stato rinchiuso per aver ucciso uno della sua stessa arte. Uno strumento del Guarnieri usò Paganini e con lui la leggenda si rinforza. Egli uccise, disse la leggenda, la sua amante infedele. Fu in carcere e fece un patto col diavolo per uscire libero e per diventare il più grande violinista d'Europa. La fantasia dei contemporanei non trova altra spiegazione alla figura di Paganini se non una sua alleanza col diavolo. Girò l'Europa con un segretario che pare fosse il diavolo in persona, forse lo stesso che sulla testatura del violino dettò a Tartini il famoso trillo. Stradivari già lo conosceva il diavolo, forse è quel viso che orna la parte alta del manico di una sua cetra, un viso femminile, ridente, con due gemme per occhi. L'Ottocento non ha finito ancora di stupirsi della voce del violino di Cremona. Tostoi vede ancora Satana nella sonata a Kreuzer. Gli angeli non suono più i violini ai piedi della Madonna in gloria. Lo strumento è profano, tanto che mi ha sempre stupito sentirlo qualche volta in chiesa accanto all'organo. È vero che si trattava di cerimonie nunziali. Lo strumento di Paganini, che appartiene al municipio di Genova, è annerito come iera, come colpito e bruciato dalla fiamma di un genio infernale. È piuttosto l'ombra, il sortileggio del violino. Vedo apparire Paganini attraverso il suo strumento, abito nero e corpetto nero, le code della giacca fino a terra e nelle falde nasconde forse una pochette di quei violini scabili. Paganini ha le braccia allungate, smisuratamente dal violino e dall'archetto, il viso pallido, incorniciato dai lunghi capelli cupi. Intona il suo pezzo strabiliante sulla corda del sol, con quel suono disperato di cui si parla tutta una letteratura, disperato come un canto d'angeli schiacciati dal cielo perché si sono innamorati delle donne della terra. Ma sul manico non c'è più nessuna corda, come per un irraggiungibile virtuosismo. E chissà poi se uno strumento simile ha ancora una voce, perché il violino ha pure questo di supremamente umano. Non suonato per un pezzo, deperisce e muore. Non più sotto l'azione delle vibrazioni, le sue molecole si disgregano al modo del cuore nostro, quando non vi ispira più né amore né gioia né sofferenza.